Ah la pasta, la pasta, vanto e orgoglio di noi italiani, la pasta è ciò di cui andiamo più fieri, di cui andiamo più orgogliosi, la pasta è ciò che ha reso celebre l'Italia nel mondo, la pasta è uno dei grandi simboli dell'Italia, la pasta è in un certo senso l'Italia e secondo la narrazione, secondo la tradizione, la pasta non sarebbe totalmente made in Italia, nel senso che, secondo la leggenda, sarebbe arrivata in realtà in Italia dall'Oriente e poi in Italia si sarebbe adattata ai gusti degli italiani e sarebbe stata trasformata, modificata, valorizzata e poi esportata in tutto il mondo. Secondo la tradizione, importare la pasta in Italia e quindi a farci questo grande dono sarebbe stato Marco Polo. Marco Polo, mercante, esploratore di ritorno dalla Cina, dove secondo sempre la narrazione avrebbe vissuto per un lungo periodo della propria vita, tra l'altro, servendo l'imperatore come consigliere, poi nel 1295 decide di tornare in Italia e nel viaggio di ritorno porta con sé alcuni elementi sconosciuti fino a quel momento alla civiltà europea, come la polvere pirica, come la carta e come la pasta. Tuttavia la figura di Marco Polo è una figura particolare, controversa, una figura molto interessante per gli storici, principalmente perché non siamo ancora oggi totalmente certi della sua reale esistenza. Noi non sappiamo se sia esistito realmente un Marco Polo o se invece questo sia il nome di fantasia utilizzato per redigere una sorta di lavoro di opera editoriale in cui sono stati messi insieme vari racconti, vari aneddoti di diversi mercanti che erano soliti per correre la via della seta. Cosa interessante è che alcuni studi recenti fatti in Cina hanno identificato proprio un italiano di cui non viene dato il nome, che ha servito effettivamente l'imperatore nella seconda metà del XIII secolo, il che ci dà buone speranze nella ricerca del vero Marco Polo. Comunque, comunque, non sappiamo come o quando sia realmente vissuto Marco Polo, ma poniamo per un attimo che sia vero, che sia stato Marco Polo a portare la pasta in Europa e in Italia. Se così fosse, prima della data del suo ritorno, quindi prima del 1295, in Italia e in Europa non dovrebbe esserci alcun tipo di riferimento alla pasta. Cosa che però non corrisponde totalmente al vero, perché circa dieci anni, dieci, quindici anni prima di questa data, un monaco francescano, sal in bene da Parma, riso tra l'altro celeber, no, al grande pubblico dalle conferenze di Alessandro Barbero, ha scritto, ha pubblicato una cronica, un racconto della propria vita, in cui, tra le tante cose che ci vengono dette e che ci vengono raccontate, vi è un riferimento ad un tipo di pasta che lui aveva mangiato da giovane, un tipo di pasta che è quindi presente nella tradizione popolare italiana nella prima metà del XIII secolo. Quella che ci viene raccontata è una pasta ripiena, che difficilmente possiamo associare alla pasta moderna, alla pasta contemporanea. È una sorta di tortino più che vera e propria pasta, il che è un po' al limite, nel senso che poteva esserci questo concetto di pasta differente in Italia e che poi Marco Polo magari ha portato la pasta tra virgolette moderne, o ancora che quel tipo di pasta sia presente nella tradizione perché è arrivata con Marco Polo pochi anni prima e il fatto che siano diversi autori disseminati nel tempo potrebbero aver portato la pasta magari agli inizi del secolo e la narrazione poi è ambientata cento anni più tardi. Quindi per fare un po' di luce sulla questione bisogna tornare un po' più indietro, bisogna scavare un po' più a fondo, andare un po' più indietro nel tempo e cercare altre fonti. Lungo tutto il XIII secolo di fonti che fanno riferimento alla pasta ne incontriamo diverse. Incontriamo diversi iscritti mercantili, diversi registri di bottega, ricettari, incontriamo la documentazione di taverne, insomma incontriamo tanti documenti in cui si fa riferimento più o meno diretto alla pasta. È un periodo particolare, il XII secolo, quindi bisogna spostarsi un po' più indietro e andando nel XII secolo la situazione non cambia poi tantissimo, incontriamo sempre lo stesso tipo di fonti, ma nel 1154 incontriamo un testo particolare, un testo che potremmo associare ad una sorta di guida turistica, la vera e propria guida turistica del Mediterraneo che si rivolge agli ambasciatori, che si rivolge agli aristocratici, che descrive le varie città del Mediterraneo, i vari luoghi di interesse del Mediterraneo, descrive i popoli del Mediterraneo, cosa c'è di interessante da vedere nelle città e soprattutto cosa c'è di interessante da mangiare nelle città del Mediterraneo. Questo scritto viene realizzato dal geografo islamico Khalidrin, che appunto scrive questo testo, questa sorta di guida, rivolgendosi principalmente agli ambasciatori islamici che erano interessati a viaggiare ed esplorare il Mediterraneo, quindi gli dà delle indicazioni su come muoversi. In questo scritto Khalidrin, quando si trova ad affrontare l'Italia, in particolare quando si trova ad affrontare la Sicilia, parla di un piatto, di un cibo più che di un piatto, che ha incontrato, che è noto agli esploratori, ai marinai che hanno visitato la Sicilia e che sono stati a Palermo. Ci parla di questo cibo di farina, lui lo chiama cibo di farina, che definisce tria. Questa tria cos'è? Si tratta di spaghetti, si tratta di quelli che noi oggi associeremmo allo spaghetto. Non parlo dello spaghetto quello sottile, industriale, parlo quello più casereccio, no, quello spaghetto un po' più spesso, granuloso, fatto di farina e acqua, magari pasta all'uovo. Khalidrin ci dice proprio che ci sono varie variazioni di questo cibo di farina, generalmente si lavora con acqua e farina, ma in alcune occasioni speciali, particolari, viene aggiunto anche dell'uovo, si aggiunge proprio dell'uovo alla lavorazione della pasta, il che è molto interessante perché ci dà un elemento molto forte, molto importante proprio per capire il tipo di pasta che abbiamo di fronte. Abbiamo letteralmente della pasta all'uovo. Generalmente ci dice Khalidrin che è lavorato con acqua e farina, viene fatto essiccare e poi viene conservato, ma negli eventi speciali viene aggiunto anche l'uovo per dare un sapore leggermente diverso e quando viene aggiunto l'uovo generalmente viene consumata nell'immediato. Quindi la pasta all'uovo è la pasta delle grandi celebrazioni, dei grandi eventi, mentre la pasta acqua e farina è quella che incontriamo probabilmente nella tradizione culinaria quotidiana del popolo palermitano. Questa tria non è l'unico tipo di pasta che ci viene in realtà descritto da Khalidrin. Khalidrin ci fa riferimento ad un tipo di pasta incontrato a Napoli, che si può incontrare a Napoli, che è un cannolo fondamentalmente, è un cannolo molto grande, non rimpieno di ricolta dolce, che non è mangiato come dolce, ma che è mangiato come... cioè che è rimpieno di ricotta salata, che è cibo, che è un involtino, tra virgolette, di pasta ripiena. Ci fa riferimento a delle sfoglie di pasta che voi vengono tagliate a pezzettini, bagnate nella zuppa, insomma, quelli che noi oggi siamo soliti associare ai testaroli e a tanti altri tipi di pasta che siamo soliti incontrare effettivamente nella tradizione popolare o quei tipi di pasta, no? Siamo soliti incontrare magari alle rivelazioni medievali. Ed è molto interessante perché questi documenti del 1100, questo scritto nel 1154, ci dice che questi tipi di pasta che possiamo incontrare in Italia, ed è interessante che si incontrano in Italia e non in Europa, fuori dall'Italia questo tipo di cibo non esiste, non è presente, non è molto diffuso, ci dice all'idrin essere molto presente nella tradizione popolare ed essere di tradizione molto antica. Insomma, nel 1100 la pasta era un qualcosa che apparteneva già da tempo alla cultura popolare italiana. La pasta quindi fa parte, letteralmente, secondo all'idrin, del DNA degli italiani e volendo scavare ancora, ancora, ancora più a fondo potremmo tornare agli anni della Megalellas, della Magna Grecia, e incontrare i Makar. I Makar, che praticamente è il cibo per i defunti, il cibo dei defunti, un tipo di piatto che si preparava in occasioni funebri, sono dei rotoli di pasta, ancora una volta, preparati in vari modi differenti. Un modo particolare di preparare questi Makar è con del formaggio, con diversi tipi di formaggio. Praticamente nella Magna Grecia si mangiavano i maccheroni ai quattro formaggi. Vi parlerò, se vi interessa, in altri video del Makar, dei maccheroni, di altri tipi di pasta, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. Se questa tipologia di video sulla storia della pasta può interessarvi, a me sta prendendo tantissimo, sto leggendo tantissime cose su questo tema, mi sto veramente appassionando tantissimo, perché non mi aspettavo veramente che la pasta fosse così antica. Nei ricettari romani incontriamo diversi piatti a base di pasta, ed è interessante perché la pasta che viene utilizzata nel Medioevo, ma anche in età romana, è una pasta fondamentalmente secca, è una pasta che viene conservata per molto tempo e che può essere riattivata, ammorbidita proprio nell'acqua, nella zuppa, e che quindi viene mangiata in sostituzione al pane stentio. E, cosa molto interessante, sembra che in realtà fosse molto più diffuso questo del pane stentio. I mugnai facevano soprattutto pasta. Comunque, comunque io vi invito a seguire tutti i social network, che li trovate in descrizione, vi ricordo che martedì e venerdì sono in live sul mio canale Twitch, trovate anche qui il link in descrizione, e se volete supportare Historicalize, potete farlo con Patreon, o iscrivendovi al canale Twitch, trovate tutti i link in descrizione. Io vi ringrazio ancora per aver guardato, e vi do appuntamento al prossimo video. Spero che non sia un video da pabuchi come questo. Io vi ringrazio ancora per aver guardato,